L'idea non è nata proprio dai viaggi a Parigi, ma con i viaggi a Parigi, nel senso che l'idea di diventarlo in quel periodo è nata dal fatto che io sono sempre stato un amante dei classici, dei libri classici, dei testi di quell'epoca e chiaramente in quell'epoca, soprattutto in quell'impressionista, io vedevo il culmine, il top di tutto, cioè la località in cui si raggruppavano i maggiori artisti, i maggiori scrittori, i maggiori poeti, era tutto concentrato dietro, era un'epoca incredibile, tanto quanto lo è stato nel Rinascimento Firenze. Quindi quel periodo mi affascinava tantissimo, oltre che mi affascinava tanto la pittura degli impressionisti, quindi un po' la volevo anche scoprire, comprendere, perché mi piaceva, mi piaceva molto Manet, Manet soprattutto, e gli altri. Quindi ne conoscevo poco, ma la volevo approfondire e quindi nella mia idea dicevo, un giorno magari raccogliendo materiale potrò essere in grado di scrivere un romanzo, ambientarlo in quell'epoca e parlare degli impressionisti e soprattutto vivere quell'atmosfera. Io mi volevo buttare dentro quelle atmosfere, volevo viverle, perché è stato come una sorta di desiderio di vivere quell'epoca, pur non essendoci, immergendomi completamente. Quindi attraverso poi la lettura di vari testi, attraverso l'approfondimento, eccetera, eccetera, in un certo qual senso questa vita l'ho vissuta effettivamente. Quindi l'idea iniziale era quella, poi chiaramente dovevo anche dare un po' di sostanza, perché man mano che io cercavo, trovavo materiale, c'era l'idea di fare tutto. Poi a un certo punto è nata una maggiore consapevolezza e comprensione di quello che era successo. Cioè il fatto che ci siano stati gli impressionisti e ci sia stata questa rottura con il passato, mi ha fatto riflettere molto su questo passaggio importante di rottura con il passato, perché proprio è un periodo spartiacque, e di una riflessione di confronti dell'arte moderna, contemporanea, che era un altro mio avviccio, quello di capire e cercare un po' di sviscerare il perché l'arte contemporanea è tale, cioè da cosa nasce, come mai si ragiona così, come mai si è arrivata a quello, come mai è diventata incomprensibile. Ecco, quindi tu vedi in quel periodo la genesi, il punto di svolta, della nascita dell'arte contemporanea, moderna e contemporanea, quella che oggi, diciamo, possiamo, diciamo, fra virgolette, ammirare nei contenitori culturali dove ci sono, nelle città, mi viene in mente sempre tutti tu a Parigi, ma so che addirittura quest'anno, quando tu so, perché sono più accessibili, o altri, sì, da altri costi, si dicono che a Barcellona, so che c'è un altro... I centri di carattere contemporanei ce ne sono ovunque, quindi è chiaro che... Quindi tu hai voluto vogliere questo punto di svolta, in quel periodo preciso, storico, a cavallo della seconda metà dell'arte? Allora, c'erano più idee, più cose. Da una parte rivivere proprio quell'atmosfera attraverso l'approfondimento, e proprio vivere i costumi, il modo di fare, l'atmosfera, il modo di vestire, la grazia di quell'epoca, che è una cosa che a me manca, anche la bell'epoca, sì. E poi comprendere questo passaggio, cioè come si è passati dalla figurazione, da fare dei quadri, diciamo, figurativi con tutte le regole, con tutti i grismi, eccetera, a una lontura completa a fare quadri che non hanno più regole, e che è solo mera fantasia dell'artista, su cui puoi, tra virgolette, speculare sul tutto. Ecco, e a questo punto mi inizio oggi una domanda. Tu sei d'accordo, quindi, con la rottura completa delle regole nell'arte? Cioè nel senso, per arte, intendiamo specificamente, hai idea espressa nella cultura. Per quelle che sono tutte le altre arti, ad esempio, mi viene in mente anche la scultura, le arti figurative, ma anche, non so, in letteratura, in poesia, in musica. Tu sei d'accordo con questa rottura completa delle regole, o pensi che bisognerebbe, in un certo senso, mantenere un minimo di, diciamo così, limite o di... Allora, io sono dell'idea che ci vuole sempre una mezza misura. Io sono sempre dell'idea di un media stat virtus. Ma la questione qual è? Che è chiaro che ci sono dei frangenti in cui, quando le regole si rompono, si esplora. Quindi la musica, l'arte, tutti hanno esplorato, hanno visto che si era aperto un capo, una tragedia enorme, quindi hanno esplorato i vari generi, le varie cose. Il che è legittimo sotto molti punti di vista.